Come operare sui mercati durante i mesi estivi, durante le vacanze, come si fa a guadagnare mentre siamo un po' a riposo sotto l'ombrellone, che cosa dobbiamo fare, quali sono i tips e i consigli da buon trader di famiglia. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, oggi andiamo a guardare quelli che sono i miei consigli pratici per gestire i vostri portafogli cripto e cosa fare, anche quali strategie secondo me sono più idonee da applicare in questi mesi estivi un po' accalorati, un po' sotto l'ombrellone, un po' in riva al mare e un po' storicamente andremo a guardare anche come si comportano i mercati in questi mesi appunto per prendere le nostre strategie e metterle insieme ragazzi. Allora andremo a trattare tre consigli di cui uno è anche una strategia e lo faremo insieme anzi su quello credo che dovrò chiedervi anche un consiglio importantissimo, prima di andare avanti vi chiedo di iscrivervi al canale ragazzi se ancora non l'avete fatto perché come sempre vi date una mano e poi i pollicioni, pollicione, pollicione, ok ragazzi perché vi date una mano con YouTube ma poi vi rinnovo l'invito anche a iscrivervi a Instagram ragazzi perché l'abbiamo aperto l'altro giorno, ci sono già migliaio di iscritti circa quasi e ragazzi sono molto contento perché ancora non abbiamo fatto nulla lì però tra un po' anche il team che c'è dietro inizierà a sviluppare una serie di contenuti, insomma un nuovo post, un nuovo modo di incontrarci, di condividere quello che sono un po' le nostre idee ragazzi lì possiamo avere anche un po' di dibattito più veloce, insomma sono molto contento, at tradingon.it andiamo su Instagram ancora per la prima volta diciamo così, ok? Allora andiamo a partire subito da quelli che sono i consigli ragazzi, prima cosa andare ad analizzare come si comportano i mercati solitamente nei mesi estivi, soprattutto luglio-agosto, ok lo andremo a vedere comunque luglio-agosto in generale ragazzi, allora vi ho messo qui già un grafico che è importante perché è il grafico mensile di bitcoin, quello che usa Brave New Coin Liquid che è un diciamo molto molto lungo e nella parte di sotto avete un indicatore che si chiama ATR normalizzato, è un indicatore di volatilità, quello che fa sostanzialmente è indicarci quanto movimento fa il mercato in un determinato periodo di tempo, è stato settato per indicare quelle che sono i livelli di volatilità soltanto dei singoli mesi, quindi quello che vediamo in questo momento è la struttura di volatilità per esempio dei livelli di mese appunto nei vari anni. Allora come si può andare a vedere quando l'indicatore sale a livelli molto alti vuol dire che il mercato ha una volatilità molto alta in quei mesi, quindi vedete anche gli ultimi nella bull run del 2021 sono stati abbastanza alti i livelli di volatilità prima di questa fase, invece in questa fase il mercato sta andando a riposarsi. Se andiamo indietro nel tempo vediamo che un po' da maggio-giugno per esempio del 2020 il livello di volatilità era quasi ai minimi della storia di bitcoin, quindi già lo scorso anno verso giugno, luglio, agosto il mercato ha avuto una volatilità abbastanza bassa, questo significa in pratica che il mercato ha fatto dei movimenti molto piccoli, quindi dei range, delle oscillazioni abbastanza piccole. Nel 2019 invece c'è stata una leggera differenza, perché per esempio la volatilità del 2019 è stata abbastanza importante anche durante agosto, il mercato oscillava parecchio perché aveva fatto un super pump di giugno che era culminato nei massimi di giugno 2019. In tutte le altre situazioni vedete anche luglio-giugno 2018, quindi volatilità discendente, qui 2017 come il 2019 e poi agosto 2016 un po' come il 2020. In pratica ragazzi, però volevo anche farvi vedere per esempio che nel 2019 dopo settembre il mercato comunque è sceso a livello di volatilità fino al dicembre 2019. Ora siamo in una fase in cui il livello di volatilità di giugno è stato più o meno intorno al 50% e poi adesso insomma lui appena iniziato, quindi non sappiamo se sarà intorno a quel livello, ma in ogni caso sono ben distanti tutti i livelli di volatilità dei mesi estivi da quelli che sono i massimi, cioè in pratica i mercati storicamente non vanno a fare delle grandi impennate di volatilità e quindi dei grandi trend, dei trend molto lunghi durante i mesi estivi. Proprio su questo dato possiamo andare a creare quella che è la nostra strategia con la prima regola. Quale strategia utilizzare durante i mesi di luglio, agosto e anche settembre perché no se il mercato appunto mantiene un livello di volatilità e quindi di movimento abbastanza piccolo. Allora ragazzi, primo punto del video, strategie di trading di breve periodo. Allora se nei mercati e nella volatilità che abbiamo visto i mercati saranno diciamo più contenuti, quello che dobbiamo andare a fare in sostanza è utilizzare delle strategie di trading per creare dei profitti che sono delle strategie di breve periodo, non di medio o lungo periodo perché il mercato tendenzialmente non ci darà grandi trend, cioè probabilmente il mercato non andrà a fare un rimbalzo, non so, da 33 a 60 mila dollari, quindi è inutile magari andare a creare delle strategie di trading che hanno un orizzonte temporale molto lungo con dei take profit, dei target di livello molto lontani da quelli dei prezzi attuali. Quindi andate a magari utilizzare un take profit che sia un pochettino più piccolo così anche come uno stop loss che sia leggermente più piccolo perché durante queste fasi di mercato un po' a riposo, un po' leggermente addormentato perché i mercati cripto non si addormentano mai, però sono leggermente più lenti, ok? Sono un po' accolorati anche loro e quindi andate a utilizzare strategie di trading di breve periodo che magari hanno come orizzonte temporale qualche giorno, non tantissimo tempo, quindi non settimane e poi andate magari a ridurre il time frame utilizzato per creare il vostro trading plan, la vostra strategia di trading. A tal proposito ragazzi, allora io vi chiedo se vi interessa proprio questo primo punto di questo video possiamo andare a fare o un webinar o un video di YouTube, adesso ci penserò dove andremo a parlare proprio di una strategia dedicata a questo tipo di momento, quindi proprio creata per stare dentro i prossimi due mesi circa, se la volatilità del mercato si mantiene bassa come idealmente stiamo pensando. Allora se vi interessa questo tipo di strategia o un webinar di questo tipo scrivetemelo nei commenti perché vi manderò, insomma poi ci penso, vediamo quando realizzarlo perché non so cosa fare prima in questo momento, anche perché ho ricominciato anche a fare qualche concerto live ragazzi, quindi mi voglio un po' divertire dopo due anni che non cantavo e non suonavo, quindi assolutamente è una cosa che vi va di fare per me stesso, però scrivetemi nei commenti questa cosa così andiamo a creare magari un video ad hoc proprio per questo tipo di strategia, potrebbe essere una cosa molto bella anche da fare tutti insieme. Bene passiamo al secondo punto ragazzi, come andare a a creare profitto durante una fase di volatilità bassa. Se siamo degli holders e non ci piace per esempio insomma fare strategie di trading come quelle che vi ho detto che dovete stare un pochettino sui mercati, dovete fare qualche graficuccio, qualche movimento sotto l'ombrellone a premere i bottoni sul cellulare, è importante utilizzare la Sefai meglio che la DeFi secondo me in questa fase per tanti motivi. Primo ragazzi, allora la Sefai vi mette a rendita le vostre criptovalute e fa in modo che magari in un lasso di tempo di uno o due mesi dove i mercati avranno una scarsa volatilità, se non volete fare niente, potete andare in vacanza, potete stare riposati, mettete le vostre cripto nei servizi di Sefai, centralized finance e li lasciate maturare gli interessi perché magari può essere interessante il fatto di utilizzare le risorse che avete, quindi le cripto che avete senza andare magari a fare cose strane. Perché la Sefai meglio che la DeFi secondo me in questa fase? Perché è più semplice? Semplicemente ragazzi la DeFi presuppone che dovete mettere mano agli smart contract, dovete fare degli scambi, qualcosina che magari sotto l'ombrellone vi viene anche difficile, ma le applicazioni di Sefai le potete utilizzare tranquillamente con lo smartphone per esempio e non c'è un gran problema nel fare questo tipo di operatività, magari vi andate a controllare come vanno i rendimenti eccetera. Tra le mie le mie piattaforme di Sefai preferite ragazzi, ce sono tre principalmente che sono Nexo in primi, secondo me le dico in ordine di preferenza per quanto mi riguarda, Nexo la prima secondo me la mia preferita. Poi c'è Crypto.com e la nostra applicazione quella classica con la carta nella sua funzione Earn e poi c'è BlockFi, ma BlockFi non mi piace negli ultimi periodi perché stanno cambiando troppo spesso e abbassando troppo spesso i tassi. Siccome ragazzi se non avete patrimoni molto ingenti, quindi da centinaia di migliaia di euro a salire, non vi serve andare a diversificare i tattissimi progetti, potete utilizzare benissimo Nexo, Crypto.com e BlockFi per dividere un po' i vostri Earn. Qual è la questione legata poi alla terzo punto che sono appunto collegati, ho fatto un gioco di parole, allora la questione è quali crypto metto in Earn e in Sefai e qui è l'altro punto fondamentale che volevo farvi vedere ragazzi. Allora focalizzarvi su poche criptovalute perché andare a fare un portafoglio con 30-40 cripto da tenere sotto l'ombrellone, se non lo avete in hold già da tempo, se non volete stare lì a guardare quello che è il mercato ogni giorno, vi conviene evitare di creare questo tipo di portafoglio, poi è ovvio ragazzi, se volete cavalcare magari qualche cripto che può essere un buon progetto, che può schizzare alle stelle, allora quello lo potete sempre fare, però quelli vanno visti, lo sapete, cioè non è che potete fare una cosa così. Perciò secondo me in Sefai io utilizzerei le classiche cripto come Bitcoin, in primis Ethereum, per chi di voi lo ha, io tra le altre cose sono rientrato con un 25% anche su ETH, sto aspettando il rientro fino al 50% per la mia parte hold e poi USDT, perché chi di voi magari si è mantenuto un po' di liquidità in questo momento in cui i mercati sono stati leggermente deboli, può mettere a rendita anche il USDT e in tutte queste criptovalute si possono trovare tassi di interesse estremamente, diciamo, produttivi, facciamo così, proprio nelle app che vi ho detto. C'è anche una terza app, anzi una quarta app che io sto testando che è YieldApp, ragazzi, ho fatto un video a tal proposito, si sta comportando abbastanza bene, quella va bene se volete mettere Ethereum o per esempio a rendita, perché il tasso è veramente molto alto, quindi il reward è molto alto. È ovvio che utilizzando delle app molto piccole si aumenta un po' il rischio della Sefai, questo ormai lo avete capito, anche perché noi stiamo prestando le nostre cripto a queste applicazioni, quindi è importante anche che queste applicazioni siano estremamente, diciamo, precise e poco rischiose, quindi più capitali hanno, più grosse sono, ovviamente in questo caso meglio è. Quindi terzo consiglio per gestire e creare profitto, annesso al secondo, ragazzi, andate a utilizzare poche cripto, soprattutto le migliori. Mi raccomando, non solo Bitcoin, anche TH, perché TH è importante da un punto di vista delle altcoin, perché un po' le alt seguono sempre TH e se il mercato dovesse ricominciare un trend in forte salita, TH potrebbe dare grandi soddisfazioni, mentre magari Bitcoin sarebbe un po' più lentuccio, quindi da questo punto di vista andate un po' a diversificare, ma non troppo. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video, i miei tre trucchi ricapitolati sono andate a creare strategie di trading di breve per creare questo tipo di profittabilità e guadagnare nei mercati a bassa volatilità, bassa relativa, insomma, ok? E poi se volete un video di approfondimento riscrivetemi nei commenti questa cosa, ragazzi, perché a me piace tanto, però ovviamente sono video importanti, quindi vi chiedo la vostra idea, perché farli veramente è molto, molto oreroso in termini di tempo. Poi il secondo consiglio è quello di usare la Sefy meglio che la DeFi, così non avete tanti grattacapi, tanto è un paio di mesi, ragazzi, ok? E poi di focalizzarvi su delle cripto che sono quelle che hanno un rendimento alto per la Sefy, ma sono anche stabili di prezzo, perché se andate a prendervi le cripto classiche, poi c'è scritto API al 200%, poi crollano del 300% di prezzo, insomma, ragazzi, ok? Non ha molto senso, ok? Questo è il discorso e poi, insomma, sotto l'ombrellone è un po' meglio stare tranquilli. Va bene, allora, fatemi sapere anche se qualcuno di voi ha un'idea generale anche di aggiungere un altro tips. Mi era venuto in mente anche per esempio di indicarvi l'utilizzo di un botta griglia, ma sapete che io un botta griglia lo sto proprio utilizzando in degli scorsi mesi e l'ho creato per farvi proprio vedere un video. Cosa fa, cosa non fa? Ho detto, più che spiegarlo teoricamente, facciamo una bella cosa, teniamolo in piedi per x mesi e poi andiamo a presentare i risultati. Ma ne faremo, ne parleremo, diciamo, di tempo ce n'è. Bene, allora, siamo arrivati alla fine, vi rinnovo l'invito a iscrivervi su Instagram, ragazzi, e come sempre io vi ringrazio per essere stati qui con me, noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!